Ben trovati e benvenuti a chi non ci ha mai seguito, non ci ha mai visto, alla sede Sinauto Usato Store. Ponte San Marco di Calcinato, uscita tangenziale sud, Ponte San Marco, uscita autostrada Brescia Est. Sinauto Usato Store, qui trovate sempre 100 macchine usate a vostra disposizione, ma non sono tutte usate. Abbiamo tante chilometri zero dei nostri marchi, Mitsubishi, Opel, Ssangyong, Maindra, abbiamo tante vetture aziendali, abbiamo vetture semestrali, abbiamo vetture usate recenti o meno recenti, ma tutte verificate, controllate, tagliandate e naturalmente tutte con garanzia. Vi invito ad andare sul sito sinauto.it oppure sinautousato.it, meglio ancora, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti negli ultimi arrivi delle chilometri zero, delle aziendali, delle semestrali, delle vetture usate. Vedete la macchina che fa per voi, scriveteci una mail, fateci una telefonata, chiedeteci come fermare la macchina, noi ve la fermeremo e voi potrete venire qui in tutta tranquillità, vedere e provare la macchina che avete scelto e definire poi eventuali anche piani di finanziamento e di assicurazione. Cerchi professionalità e affidabilità? Visita il mondo sinauto. Da vent'anni sinonimo di competenza, personale specializzato, sconti e prezzi imperdibili vi aspettano, finanziamenti a tassi agevolati e supervalutazioni. Siete in cerca di un bel SUV, questo qua è un bel SUV, Hyundai X35, ne vedete in giro per stare un modello parecchio venduto. Questo qua tra l'altro è un allestimento comfort, quindi in teni in paio e tessuto, cerchi buniti, vetri scuri, sensori parcheggio, clima settore automatico bizona. È veramente bella la macchina. 1.700 turbo lì, quindi anche questo in gestione non elevati, parliamo di un 1.700 con consumi attorno ai 6 litri 100 km. L'eda anteriori, posteriore, insomma è una macchina da vedere e da provare, è veramente bella, lo posso dire senza essere smentito. 21.800 euro, esclusi in matricolazione, vi aspettiamo per vedere e provare e ovviamente acquistarla. Vi voglio presentare l'ultima versione del Suzuki, Suzuki 1.300 Jimmy Evolution, è una macchina che tutti conoscono, in certe zone girano solo queste vetture qua. È particolare perché a parte la città ridotta 1.300 ha le ridotte e le 4x4 inseribili, rarissime in questa categoria. Appartemente inserendo le marce ridotte e 4x4 questa macchina qua è inarrestabile, in certe situazioni, in certe zone va solo questa macchina qua. Parliamo di una vettura da immatricolare, la macchina è stupenda, è nuova e la proponiamo in vendita a 15.700 euro. Vi aspettiamo per vedere e provarla. Molti non conoscono il marchio Lexus, Lexus è il brand di lusso di Toyota, quindi parliamo di macchine molto affidabili e con un utilizzo ibrido. Parliamo di un SUV, è l'ammiraglia di casa Lexus, è un SUV ibrido, quindi utilizza motore elettrico e un motore a benzina. Questo abbassa i consumi soprattutto in città, quindi permette di circolare con una vettura superiore ai 4,5 metri ma in città con consumi da utilitaria. È una macchina super accessoriata, ha veramente di tutto, sensori interiori, posteriori, portellone elettrico, tettuccio, interi in pelle, sedi riscaldati, piantone valente elettrico, fari xeno. È full optional, un pianto stereo da 1000 Watt. È una macchina stupenda, dovete venire a vedere, è una macchina da provare Lexus, perché è una guida con il motore elettrico veramente entusiasmante. La vettura è del 2007 e come cifra chiediamo 16.800 euro. Questo che vi presento è un cavallo di battaglia di Toyota nel discorso SUV 4x4. È la Toyota RAV4, è stata prodotta in 2.000 esemplari. È la quarta serie di Toyota RAV che viene prodotta. È una macchina quindi conosciutissima in tutto il mondo. Parliamo di un 2.2 turbodiesel col navigatore satellitare option originale, un'option da più di 1000 euro. Climazzatore ABS e uno stupendo colore nero metallizzato. La macchina è del 2007, ha percorso circa 140.000 km, chiediamo 10.500 euro, incluso 12 mesi di garanzia, escluso il passaggio di proprietà. Macchina finanziabile anche per l'intero importo. Passa a trovarci, i tuoi sogni da Sinauto si trasformano in realtà.